Il mallero corso d'acqua che attraversa la città di Sondrio ha cambiato volto e ora è a misura di pesce, obiettivo raggiunto con il progetto di ripristino della naturalità del tratto urbano del torrente realizzato da Unione Pesca Sportiva dal Comune di Sondrio grazie a Fondazione Cariplo che lo ha finanziato con un contributo di 320 mila euro. Sono state realizzate tre rampe in pietrame, un passaggio per pesci a bacini successivi. Uso una metafora, ci è stato lanciato l'amo, siamo caduti nella rete e abbiamo abboccato insomma e quindi al di là delle battute progetto serio, progetto efficace, efficiente e quindi abbiamo ritenuto doveroso finanziarlo. Devo dire che i pescatori sono veramente straordinari e eccezionali perché al fattore pesca uniscono la salvaguardia dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e soprattutto preservare l'ecosistema ittico e questo è fondamentale ed è importante e serve all'intera Valtellina. Vogliamo valorizzare questa valle, è giusto che vengano effettuati interventi di questo tipo, di questa natura. Le briglie sono state abbassate? Le briglie sono state abbassate, sono state rimodulate, è stata realizzata una scala, un passaggio per pesci a bacini successivi in prossimità della prima briglia, diciamo sotto il viadotto della tangenziale, rimodulazione degli altri due manufatti a monte, per cui il pesce nei periodi di riproduzione può spostarsi da valle a monte per andare a cercare gli ambienti che sicuramente ritiene più idonei. Avete notato che i temoli stanno risalendo? I temoli stanno risalendo, il tratto urbano del Malero è oltretutto interessato da un ceppo di trota marmorata molto importante. Ed aprile un'altra buona notizia? Ad aprile, sempre con un contributo di Fondazione Cariplo, di Fondazione Pro Valtellina, sarà inaugurato il centro ittico di FAEDO, dove ci sarà anche un'aula didattica e dove i nostri giovani potranno imparare e capire qual è l'ambiente valtellinese e il valore che i fiumi e i corsi d'acqua hanno in questo territorio. L'importanza vera del nostro territorio è l'acqua e l'acqua va preservata.